L'impressione è di un interscambio, poi è stato andato abbastanza in profondità, si è toccato un po' tutti gli argomenti, soltanto che adesso bisogna elaborare dei progetti, ma la preoccupazione nel nostro mestiere è una costante, ma guai se non ci preoccupassimo, però dobbiamo pensare al futuro. Non vuole essere presumptuoso, ma è reciproco al bisogno, perché se non c'è il produttore non c'è il distributore e viceversa. Siamo di fronte a una crisi finanziaria, ma soprattutto abbiamo una fortissima crisi di competenza del settore, e quando non c'è la competenza tutto si svolge solo sul prezzo. Il prezzo uccide qualsiasi mercato. No, ma è un'evoluzione. Dire che è un momento difficile è l'errore fondamentale, perché è sempre difficile il lavoro. È un momento impegnativo, bisogna impegnarsi con competenza e sapere risolvere i problemi. L'età che ho non ho problemi con nessuno, perché poi vince, guardi, un'azienda nasce per una buona idea di prodotto e more se dimentichi il prodotto. Il prodotto vince sempre. Ci sono anche delle regole da rispettare, perché se prendi una società quotata in borsa, devi poter dare i dati solo ufficialmente e basta. Ho i dati specifici, magari non li ha, ma macro li hai, comunque al di là delle statistiche. Grazie. Grazie.